Celestino di Corato per Attivamente che oltre al Festival del Pensiero ha lanciato questa splendida iniziativa in questa sera d'estate portare l'arte in città, portarla tramite gli stessi cittadini che si sono messi all'opera per realizzare dal vivo quelle che poi sono delle opere che sono passate alla storia proprio per le qualità mostrate dai pittori. Attivamente accoglie un'idea che viene da fuori, dal di fuori dell'associazione, da Michele Carchia e da altri cittadini appassionati d'arte raccoglie questa idea e cerca di mettersi a disposizione e coordina un pochettino tutta la serata e anticipa il Festival del Pensiero infatti un viaggio nell'arte aspettando il Festival del Pensiero lanciamo in questa serata il tema della terza edizione del Festival del Pensiero che è il viaggio. L'anno scorso grande successo per il Festival del Pensiero, quest'anno già questa prima serata dimostra grande attenzione da parte di molta gente che è incuriosita da questa serata e tanta magari ci se ne aspetta per quest'anno quindi questa è dimostrazione che il pensiero, l'arte e la cultura in sostanza trovano ancora spazio. Io direi che c'è bisogno di cultura, lo dimostrano questi eventi e c'è bisogno anche di partecipazione, di comunità. Questo è un evento in cui sono coinvolti oltre 30 interpreti che sono i figuranti, sono coloro che appunto rappresentano i quadri dei più grandi pittori della storia dell'arte ma c'è anche il lavoro dei parrucchieri, dei costumisti, i truccatori, tanti cittadini che si sono messi a disposizione in maniera gratuita. Questo fa bene alla nostra comunità, ci fa riavvicinare e permette il successo di queste iniziative che non possono avvenire sicuramente senza il contributo di tutta la comunità. Devo anche ringraziare l'amministrazione comunale per il supporto per questa iniziativa e tanti altri professionisti che si sono messi a disposizione per garantire la buona riuscita dell'evento. Quali saranno le novità 5-6 ottobre per il Festival del Pensiero? Quali saranno gli ospiti? Cosa c'è da aspettarsi? Allora, gli ospiti aspettiamo, lasciamo ancora un po' di suspense, ci stiamo lavorando, siamo a buon punto. Tanto possiamo dire che il 5-6 ottobre sono le date del Festival del Pensiero per quest'anno. Abbiamo anticipato anche il tema che è quello del viaggio, quindi questa è un'iniziativa, non direi propedeutica, ma un'iniziativa aspettando il Festival del Pensiero, lanciamo un sassolino in questo stagno cercando di suscitare curiosità nei cittadini. Poi altre novità, come abbiamo già anticipato nella presentazione di questa sera, stiamo cercando di recuperare un vecchio scuolabus che non è più utilizzato, per costruire, per realizzare un bibliobus, una libreria viaggiante e che sia un punto di riferimento non solo nei giorni del Festival, ma che possa di tanto in tanto attirare l'attenzione anche con uno scambio di libri, con delle iniziative che andremo a costruire durante tutto l'anno.